buona settimana che comincia buona settimana che comincia in compagnia di legal community come sempre mi viene da dire parliamo in questo video editoriale di intelligenza artificiale questo è stato l'anno di chat gpt l'abbiamo detto in altri momenti l'abbiamo raccontato quando questo fenomeno è esploso a livello globale facendo toccare con mano a tutti quanti quelle che sono diciamo le potenzialità dell'intelligenza artificiale dialogante quindi l'effettiva presenza di un soggetto tecnologico e digitale in grado di agire come supporto non solo nelle attività diciamo così ludiche e di passatempo di tutti noi ma anche nell'attività professionale che impatto si prepara ad avere questo strumento sul modo di lavorare degli avvocati dei professionisti in generale l'impatto sarà enorme ci sono un paio di come dire fattori che ci fanno chiaramente capire che questo cambiamento non sarà senza conseguenze il primo la questione dei budget budget che si ristringono necessità da parte di chi eroga servizi e da parte di chi acquista servizi di realizzare delle economie di efficientamento e quindi ovviamente approfittare di qualsiasi strumento qualsiasi soluzione sia in grado di abbattere la voce costi nella produzione delle proprie attività e nell'acquisto dei servizi di propria utilità quindi questo è sicuramente uno dei fattori il secondo è il fattore tempo la vera moneta o una delle vere monete assieme ai dati della epoca che noi viviamo lavorare con questi strumenti significherà accelerare ulteriormente la capacità produttiva di ciascuno di noi dico ulteriormente perché probabilmente siamo già quasi al limite se esistesse un limite di velocità produttiva cosa che sarebbe molto sana tra l'altro noi probabilmente scopriremo di averlo superato già da tempo però siccome non esiste e siccome almeno ad oggi la velocità di produzione è ancora considerata un valore in sé probabilmente l'utilizzo di questi tool che contengono intelligenza artificiale sarà come dire utilizzato in maniera importante anche nel prossimo futuro tutto questo dove lascia gli avvocati dove lascia i professionisti dove lascia le persone in carne ed ossa le lascia lì dove sono dal mio punto di vista le lascerà lì dove sono nella misura in cui queste riusciranno a cambiare il loro modo di lavorare utilizzando questi strumenti nella maniera più virtuosa di questo parleremo tanto secondo me nel prossimo futuro e per oggi però ci fermiamo qui alla prossima